Allora, prima, alla giornata di questa cosa abbiamo detto che i giovani non hanno questa cultura e io ho detto perché non hanno la cultura del tempo, perché non sanno cos'è il tempo, perché se io sapessi cos'è il tempo per me, starebbe attento a vivere quell'istante nel modo migliore in cui avrei potuto viverlo. Noi apprendiamo man mano nella nostra vita, facendolo, mettendoci in gioco quello che potevate fare prima. Se vi fosse messo in gioco, prima forse avessi appreso a condividere in pochi minuti una strategia con un obiettivo, un oggettivo misurabile che avessi dato valore a quella scalinata. In realtà il profitto è un'esternalità positiva di questo processo, perché è il suo meno fine, è appagare il suo desiderio di curiosità, di indagare, fino in fondo. E cavalcare eticamente, eticamente vuol dire in questo caso coerentemente con il proprio sentimento, no? Questo desiderio, appagare eticamente il desiderio, produce con un esternalità positiva anche il profitto. Io provo a fare le cose, provo a fare oggi, sono al punto qui, perché il mio stare qui con voi, il mio lavorare, il mio fare, producesse una cosa che si chiama bene comunque. E' quello per cui noi in realtà siamo nati, perché noi siamo persone che vivono e si realizzano solo per effetto della loro relazionalità. La dinamica del gruppo, l'appartenersi, il condividere di via, ha fattori di successo molto molto più elevati. Ed è così. Ed è così.